In teoria lo studente sta studiando su un libro o sugli appunti dell'anno scorso sta cercando di studiare autonomamente ho già accennato alcune volte ma vorrei dire qualche parola sul comportamento dei conduttori nell'elettrostatica quindi sono cose molto semplici però che voglio poter dire voglio poter chiedere a un orale con la coscienza poco se non ci dovete sapere alcune cose dei conduttori nell'elettrostatica quindi la parola chiave qua è elettrostatica quando dico questo intendo dire che dobbiamo immaginare che le cariche ormai non si muovono più sono arrivate a destinazione le cariche sorgenti si intende le cariche sorgenti, cioè quelle che creano il campo elettrico sono fermi, non si stanno muovendo più e quindi due parole su cosa succede in un conduttore allora immaginate per esempio che questo sia un pezzo di materiale ohmico ma con una alta conducibilità, un pezzo di rame allora i commenti che vanno dette sono queste le cose che vanno registrate nella vostra mente è che la superficie è l'interno del metallo questo è chiaro, tutti i punti, tutti i punti tutti i punti del conduttore v è uguale a una costante potenziale elettrostatico di un pezzo di metallo di un conduttore in elettrostatica avranno tutti esattamente lo stesso valore di potenziale elettrostatico in particolare quindi voi vedete che la superficie avendo lo stesso valore, lo chiamiamolo v0 uguale a v0 in particolare la superficie di un conduttore sono punti del metallo allora cosa sapete? che il campo elettrico è in elettrostatica e meno il gradiente di v quindi quello che succede è che la superficie di un pezzo di conduttore è una superficie equipotenziale e quindi il campo elettrico che è il gradiente di v cambiato di segno è localmente, in questo punto per esempio il campo elettrico è ortogonale alla superficie cioè se voi pensate a un piano che è tangente alla superficie ovviamente qua questa è l'intersezione di un oggetto tridimensionale con la lavagna quindi questa retta tangente alla curva dovete immaginare come un piano tangente alla superficie cioè qua avete una superficie che può essere più o meno tondeggiante e dovete immaginare in un punto che sta su questa superficie immaginate il piano tangente il campo elettrico in quel punto è perpendicolare al piano tangente quindi dovete, in questa rappresentazione bidimensionale, in ogni punto pensare appunto al piano tangente e dovete pensare alla direzione ortogonale è il vecchio discorso che il campo elettrico è il gradiente cambiato di segno quindi la superficie del metallo anche l'interno, la superficie in particolare da dove si passa dal metallo a fuori dovete pensarlo come una curva di livello e il campo elettrico è perpendicolare la curva di livello quindi localmente il campo elettrico è a 90 gradi d'accordo? allora voi dovete immaginare adesso dove se io se questo oggetto è stato è a un potenzialetto statico e c'è per esempio un valore positivo e per esempio all'infinito che mettiamo per esempio all'infinito mettiamo uguale a 0 il potenziale è una scelta tipica quando la distribuzione di carica è richiudibile in una scatola potete mettere il potenziale all'infinito uguale a 0 allora evidentemente qua su questo conduttore ci sono delle cariche dove stanno le cariche? allora le cariche devono essere sulla superficie non possono essere nell'interno del metallo perchè? perchè stiamo dicendo le cariche devono essere distribuite sulla superficie non è detto che la densità di come queste cariche sono distribuite cioè se io chiamo con sigma la densità superficiale cioè quante cariche per centimetro quadro metro quadro non è detto che sia uniforme però è in superficie non ci sono cariche interne come facciamo ad arrivare a questa intuizione? mettiamola così in maniera molto semplice se ci fossero delle cariche interne andiamo per oggi allora il fatto che tutti i punti del conduttore hanno lo stesso potenziale mi sta dicendo che all'interno del conduttore non c'è un campo elettrico perchè se non c'è un gradiente non c'è un campo elettrico il fatto che tutti i punti del conduttore ormai posso cancellare questa scritta che mi impedisce di fare il disegno se in questo punto e in questo punto all'interno del rame ci fossero due valori diversi di potenzialetto statico ci sarebbe quindi una differenza di potenzialetto statico ci sarebbe un campo elettrico e se ci fosse un campo elettrico tra questi due punti se questo punto qua lo chiamiamo che so il punto A e il punto B se ci fosse una differenza di potenziale tra i due ci sarebbe un campo elettrico quindi ci sarebbe ovviamente un gradiente quindi un campo elettrico e se c'è un campo elettrico c'è una densità di corrente perchè il materiale omici quando avete un campo elettrico i portatori di carica liberi che è il metallo ci sono tanti no? molti elettroni perchè per esempio nel rame circa un elettrone per atomo di rame non è particolarmente legato a quell'atomo quindi abbastanza facilmente si sposta all'interno del metallo quindi se c'è un campo elettrico tra qua e qua quell'elettrone comincerà a muoversi generando una corrente si muove per l'appunto ma questo è contro l'ipotesi che le cariche erano ferme ok? quindi se inizialmente ci sia una differenza di potenziale subito le cariche cominceranno a muoversi e continueranno a farlo finchè non si muovono più si è in condizione elettrostatica e proprio in condizione elettrostatica i due punti avranno assunto lo stesso valore di potenziale questo movimento di carica avviene molto rapidamente ovviamente più grande l'oggetto più tempo impiega si misura probabilmente in picosecondi c'è un oggetto grande magari si misura in nanosecondi ma avviene molto rapidamente cioè se questo è un pezzo di lame e voi avvicinate questo è il vostro pezzo di lame e voi avvicinate questo qualcosa una sfera dove c'è della carica e la toccate la carica si distribuisce molto rapidamente in tempi misurabili per esempio in picosecondi fino a quando e il campo elettrico all'interno del rame si è completamente azzerrato perchè? perchè se ci fosse un campo elettrico si muoverebbe dire che non c'è un campo elettrico qua dentro equivale a dire che questo punto e questo punto hanno lo stesso valore di potenziale hanno lo stesso valore di potenziale cioè quindi il pezzo di metallo è equipotenziale non ci possono essere campi elettrici all'interno ma dov'è allora? cerchiamo di convincerci che legame c'è tra questo campo elettrico qua e la densità di carica che è in questa zona cioè come faccio a conoscere il valore la direzione del campo elettrico l'abbiamo capito è sempre 90 gradi rispetto alla superficie sempre 90 gradi questo l'abbiamo capito perchè è una superficie equipotenziale e quindi sapete che il campo elettrico è perpendicolare alle linee di livello ma qual'è il modulo del campo elettrico? il modulo qua è uguale al valore qua? è uguale al valore qua? allora uno usa la legge di Gauss per arrivare a questa conclusione immaginate che questo sia il vostro pezzo di rame e voi guardate questa zona qua con un lente di ingrandimento in questa zona qua visto da vicino è abbastanza simile a un piano ma non è un piano quando siete molto vicini questo è un punto vicino questo è un punto vicino alla superficie siete qua e la superficie è molto grande usiamo qual'è il campo elettrico in questo punto? in un punto che è vicino alla superficie dovete pensare che state guardando con un lente di ingrandimento allora voi immaginate che proprio perchè questo è abbastanza pianeggiante è l'approssimazione che è quasi un piano migliore più questo punto è vicino alla superficie allora immaginate che alcuni punti abbastanza vicini tra di loro in questo lato cosa vuol dire vicino? cosa vuol dire vicino? misurando in unità di cosa? questa zona qua per esempio ha un certo raggio di curvatura questo tratto della superficie qua il raggio di curvatura è grande potete immaginare la superficie anche magari con delle forme ancora più sensuali e questa zona qua ha un raggio di curvatura che è così questo è un raggio di curvatura che è un po' più grande questo è un raggio di curvatura che è molto grande cioè dovete immaginare qual'è il raggio del cerchio che meglio descrive questa zona della superficie allora cosa è vicino? questo punto è considerato vicino se la distanza di è molto più piccola del raggio di curvatura di questa zona del pezzo di metallo noi siamo vicini alla superficie terrestre io di certo lo sono perchè la mia distanza dalla superficie quella distanza là è molto piccolo rispetto al raggio della terra quindi per me la superficie della terra sembra piatta sono banalità allora nell'approssimazione che io sono vicino considerate dei punti che non sono lontani nel senso orizzontale lontani in che senso? cercate di capire e mi costruisco una superficie di Gauss per esempio una lattina di Coca Cola la mia solita lattina di Coca Cola prendo la lattina e la dispongo così quindi dispongo la lattina perpendicolarmente al piano tangente della superficie in quella zona del metallo che sto considerando vi dovrebbe sembrare familiare questo ragionamento? tutti i punti su questa faccia della lattina hanno la stessa distanza perché la superficie è praticamente piatta cioè dovete in realtà pensare che la superficie è così ma stiamo facendo l'approssimazione che è piatta e l'approssimazione migliora più il punto è vicino alla superficie più questo tappo della lattina è vicino alla superficie più posso pensare che i punti del tappo hanno più o meno la stessa distanza ma cosa sappiamo? che qua dentro, questi punti qua il campo elettrico è zero il punti all'interno del rame il campo elettrico è zero l'abbiamo appena detto che qua dentro il campo elettrico deve essere zero perché è l'unico modo per assicurarvi che tutti i punti del rame stiano allo stesso potenzialetto statico quindi stiamo immaginando che le cariche si sono distribuite sul metallo e dove sono? sono sulla superficie e quindi stiamo cercando di capire com'è abbiamo capito che la direzione del campo elettrico sarà così almeno per punti che sono piccini di nuovo questo deve essere chiaro è chiaro che se io zoom qua la linea del campo elettrico esce in 90 gradi ma potrebbe poi incurvarsi e andare chissà quale altra direzione perché da qualche altra parte c'è un'altra carica o qualcosa del genere ma localmente la linea di campo sta partendo a 90 gradi quindi quando sono vicino alla superficie le linee di campo sembrano essere delle linee che potrei dire perpendicolari o paralleli poi divergeranno, l'abbiamo capito questo che non sono a rigore paralleli abbiamo capito che la superficie non è pianta questa è un'approssimazione che vale più vicino alla superficie quindi più mi avvicino alla superficie più il campo elettrico è a 90 gradi al tappo della lattina di cronocola quindi flusso attraverso questo elemento di aria della lattina cambiamo il colore del gesso quindi rosso rappresenta l'elemento di aria questo è un elemento di aria della lattina ecco il vettore area quindi vedete che le linee di campo quando sono molto vicino alla superficie tenderanno ad uscire perpendicolari quindi non faranno un flusso attraverso la parte cilindrica del tappo ma la fanno solo attraverso il tappo per la foto però questa parte della lattina non fa flusso perchè qua dentro non c'è campo elettrico quindi avrò il flusso del campo elettrico verrà solo dal contributo del tappo che è esterno al rame che colore posso usare? facciamo giallo questa è l'unica parte della lattina di cronocola dove avrò un flusso del campo elettrico quindi il flusso del campo elettrico quale campo elettrico? quello per una superficie di Gauss una lattina con tappo esterno molto vicino alla superficie e ovviamente l'estensione del tappo o il diametro del tappo deve essere molto piccolo rispetto al raggio di curvatura della superficie non volete mica avere una superficie che è così certo scegliete un tappo per un punto molto vicino ma la fate una lattina gigantesca è ovvio che questi punti qua non sono più vicini dovete pensare questa è una lattina sufficientemente piccola una lattina sufficientemente piccola sufficientemente con quale criterio? confrontandovi con la ragione di curvatura cosa dice la legge di Gauss? ovviamente il flusso dal punto di vista matematica è dato solo da questo tappo quindi abbiamo solo il tappo esterno il contributo viene solo dal tappo esterno perché la parte cilindrica esterna è zero perché il campo elettrico è circa perpendicolare alla superficie interno poi ovviamente avete la parte cilindrica è il tappo interno e questi sono zero perché internamente il campo elettrico non c'è quindi rimane solo il contributo del tappo esterno questa è la valutazione matematica del flusso del campo elettrico ma cosa dice la legge di Gauss? in elettrostatica che il flusso del campo elettrico è uguale a 1 su ε0 della carica interna alla superficie ma la carica interna dov'è? la carica interna facciamo qualche altro colore magari in blu la carica interna è la quantità di carica che è qui ok? la carica è sulla superficie non è in interno d'accordo? e quindi qual'è questa carica qua? quant'è la carica interna? dove lo scrivo? la carica interna è uguale a siccome questa è una carica superficiale deve essere chiaro cosa intendo per superficiale in realtà quando poi uno fa l'analisi fa la fisica dello stato solido e studia come si comportano gli elettroni in un conduttore un pezzo di rame e usa la meccanica quantistica scopre che la carica si prova in realtà in uno spessore che è circa 1-2 atomi quindi non è proprio una superficie matematica però è una zona del rame molto sottile circa 1-2 diametri atomici quindi questa carica è distribuita usiamo il concetto di sigma che è la carica al metro quadro e qual'è la carica interna? la carica interna è il valore di sigma in questa zona del rame moltiplicato per l'area della lattina di Coca Cola quindi se io chiamo A l'area della lattina del tappo della Coca Cola questo è sigma per A dov'essere chiaro che il valore di sigma dipenderà da dove siete il valore di sigma qua potrebbe essere diverso da qua potrebbe essere diverso da qua cioè quanti coulomb al metro quadro sono in questa zona del rame o in questa da questa potrebbe variare quindi questo è il valore locale questo è il valore locale locale nel senso di quella zona del rame che è di fronte al punto matematico che vi interessa perché noi stiamo cercando di dire quant'è il campo elettrico in questo punto e in quel punto dovete prendere la densità di carica che è sul rame di fronte a quel punto quindi questo è il valore di fronte a questo punto è il valore locale quindi questo qui questo è uguale a 1 su ε0 per il sigma locale per A d'accordo? rimane da dire cos'è questo? cos'è quello? nell'ipotesi che la lattina di Coca Cola sia piccola allora il campo elettrico in questo punto del tappo in questo punto del tappo in questo punto avranno lo stesso modulo circa e avranno la stessa direzione quindi questo valore qui cos'è? questo valore qua è il valore del campo elettrico in questo punto che mi interessa che condiviso il valore del campo elettrico uguale a tutti i punti della lattina a fatto che la lattina sia piccola a fatto che la lattina sia piccola tutti i punti della lattina condividono lo stesso valore di campo elettrico quindi il campo elettrico esce dalla foria dell'integrale e quindi ho il campo elettrico nel punto che mi interessa nel punto P questo è il punto P ha moltiplicato per l'area del tappo quindi ecco che abbiamo l'eguaglianza che il campo elettrico nel punto P che è uguale tra l'altro al campo elettrico in tutti i punti del tappo il flusso del campo elettrico nel tappo è il valore del campo elettrico in tutti i punti che mi interessa moltiplicato per l'area del tappo che circonda quel punto e questo per l'anese Gauss è 1 su Y0 per la sigma locale per l'area del tappo quindi vedete che l'area del tappo appare a sinistra come anche a destra quindi concludiamo riscrivo la formula il campo elettrico nel punto P moltiplicato per l'area è uguale a 1 su Y0 per la sigma locale cioè quel valore del campo elettrico in punti, il valore della densità di carica in punti sul rame proprio sotto il punto P moltiplicato per A ovviamente la A si è libera e quindi ecco che avete una relazione molto importante quindi il campo elettrico in un punto vicino punto vicino è uguale a 1 su Y0 il valore della sigma il valore della densità di carica sul rame proprio sotto il vostro punto che avete scelto quindi se questo è di nuovo per l'ennesima volta il pezzo di rame qual'è il campo elettrico in questo punto? sicuramente è a 90 gradi d'accordo? ma il suo modulo dipende da qual'è la densità di carica in questo punto e in questo punto la densità di carica sarà qualcosa altro magari in teoria quindi il campo elettrico in questo punto sarà diverso da questo sia come direzione sia come modulo ok? questo è molto importante mi sta dicendo che il campo elettrico per un punto vicino alla superficie sarà più grande più carica c'è un metro quadro quindi quando ho una alta densità di carica avrò un campo elettrico alto quando avrò una bassa densità di carica avrò un campo elettrico basso allora facciamo qualche considerazione pratica questo è un modellino immaginate una sfera di rame e un'altra sfera di rame a una certa distanza collegati da un filo di rame quindi è tutto metallo questo quindi dovete immaginare questo proprio come un filo lo disegno con il suo spessore così vi è chiaro che non è una linea matematica ma proprio un pezzo di rame chiamiamo questa la sfera che so questa la chiamiamo R2 la sfera 2 e questa la sfera 1 quindi uno ha raggio R1 e l'altro ha raggio R2 e immaginate che siano collegati quindi da un filo di rame e immaginate che io ho messo delle cariche ho messo una carica mi sono avvicinato ecco il mio bastone isolante ho una sfera che è stata strofinata con un pelo di gatto o qualcosa quindi questo bastone carico lo so perché riesco a sollevare fuori di carta a deflettere un elettoscopio riesco a fare tante cose e tocco o comunque induco della carica non devo necessariamente toccarla perché ci sono vari trucchi potrei avvicinarmi e poi col dito io ho la mano spesso sulla ticcia e mi metto, non con scarpe di gomma ma mi metto a terra quindi questo lo avvicino senza toccare e poi tocco il rame col dito qua allontano quindi la mano e avrò caricato questo lo sapete no? quindi immaginate che ho messo della carica su questo pezzo di metallo quindi quel metallo quando ormai la carica si è distribuita in maniera molto rapidamente si è distribuita in modo da non muoversi più quindi siamo in condizioni di elettrostatica quel pezzo di metallo ha un potenziale unico unico quindi su questa sfera ci sarà parte della carica che ho messo ho messo della carica qua un po' si è distribuita qui e un po' si è distribuita qua ignorate il filo il filo c'è per garantire che c'è un contatto elettrico tra le sfere ma io sto immaginando che il filo ha solo questo luogo qua quindi la carica si è distribuita qua e qua qual è il potenziale statico di una sfera? per i punti della sfera per i punti della sfera attenzione tutti i punti della sfera sia alla superficie che all'interno sia alla superficie che all'interno hanno lo stesso potenziale perché ormai le cariche non si muovono più qual è il potenziale elettrostatico di una sfera? di un punto della sfera quindi della sfera 2 quindi i punti della sfera 2 cos'è? è uguale alla carica che c'è sulla sfera 2 siamo nel solito sistema internazionale dove dobbiamo usare questo berevetto ε0 questo è il potenziale elettrostatico di una sfera su cui c'è una carica q2 d'accordo? ovviamente sto dicendo che il potenziale all'infinito è uguale a 0 questa è la tipica scelta lo ridico di nuovo questa è la tipica scelta che si fa quando le vostre cariche sono rinchiudibili in una scatola di una dimensione finita qual'è il potenziale di una ecco l'altra sfera e sto dicendo che hanno lo stesso potenziale devono avere esattamente lo stesso potenziale questo qua deve essere uguale a q1 diviso 4π ε0 r1 perchè hanno lo stesso potenziale? perchè sono in contatto elettrico condividono lo stesso potenziale elettrostatico perchè questo pezzo di metallo è fatto di due sfere di metallo con un filo di rame che li sta tenendo allo stesso potenziale elettrostatico quindi lo stesso potenziale elettrostatico ovviamente questo non ha nessuna importanza d'accordo? e concludete già una cosa interessante vedete che se la sfera grande ha una certa carica la sfera piccola deve avere una carica più piccola in modo che i rapporti siano uguali e vedete che fate a q2 diviso q1 è uguale a r2 diviso r1 e questo torna con l'intuito la sfera più grande ha più carica ma la densità di carica è una cosa diversa quella che entra nella formula che ho cancellato questo è la vostra questa questo oggetto qui sigma ha le dimensioni di una carica diviso la lunghezza quadro è una carica al metro quadro d'accordo? allora com'è la carica al metro quadro sulle due sfere? questo mi sta dicendo che la sfera grande ha più carica complessivamente rispetto alla sfera piccola ma com'è distribuita la carica? allora ho scelto delle sfere perchè potete immaginare che la carica per simmetria si distribuirà in maniera uniforme sulle due sfere cioè la carica al 2 sarà distribuita uniformemente perchè questa è una sfera e questa pure è una sfera ma è distante quindi quando sono vicini potete immaginare che magari le cariche si interferiscono tra di loro e non è proprio distribuita uniformemente perchè se qua fossero delle cariche positive se io avessi caricato positivamente questo pezzo di rame avere una sfera qua e una sfera qua collegata così la carica positiva qua avrebbero cercato di scappare e allontanarsi il più possibile quindi è abbastanza ragionevole che non avrei cariche positive qua a dirippetà e scapperebbero via cercherebbero di allontanarsi cercherebbero di allontanarsi il più possibile quindi la distribuzione non sarebbe uniforme se fossero troppo vicine le sfere per quello le allontanate per poter fare un semplice ragionamento le tengo lontane in modo che la carica che è qua riesca a distribuirsi il più uniformemente possibile facciamo questa ipotesi distribuisci uniformemente qua e anche la carica q1 è distribuita uniformemente quindi qual è la sigma? qual è la sigma? cos'è la sigma? la sigma è la carica per area dov'è la carica? la carica è sulla superficie quindi qual è l'area della superficie di una sfera? questa è la distribuzione 2 la distribuzione superficiale della carica sulla sfera 2 è uguale alla carica che è sulla sfera 2 diviso la superficie su cui riesce a distribuirsi e stiamo facendo l'ipotesi che lo faccia in maniera uniforme perché questa è lontana e non sta interferendo alla loro distribuzione e sarà uniforme perché è una sfera è il modo più logico di cui lo farà non c'è nessun motivo per cui la carica su una sfera si vede solo da un lato quindi qual è la superficie della sfera? è 4pi greco cos'è la superficie della sfera? 4pi greco r2 al quadrato qual è la densità di carica qua? per lo stesso ragionamento la densità di carica sulla sfera 1 è la carica sulla sfera 1 diviso ovviamente la superficie della sfera 1 ok? quindi ovviamente qua perché l'ho scritto così avrei dovuto scrivere siccome appare così riprendo questo e lo scrivo usando questa informazione quindi q2 cos'è? q2 è la densità superficiale della 2 moltiplicato per la superficie della 2 quindi 4pi greco r2 al quadrato diviso sigma 1 cos'è la q1? è la sigma 1 per la superficie della sfera 1 quindi è questo e questo per il fatto che sono equipotenziali mi viene questa condizione d'accordo? quindi questa condizione è questa questa mi va qua e quindi questo diventa questo ok? ho riscritto questo cos'è questa condizione? è la condizione di equipotenzialità la condizione equipotenzialità con cos'è una scritta in termini quindi la densità di carica non più di carica complessiva ma in termini di densità di carica è questa guardatela è carino quello che succede cosa succede? ovviamente 4pi greco non ha nessuna importanza quindi avete sigma 2 diviso sigma 1 vedete l'r2 va sotto e si mangia questo se volete potete fare così quindi e questo diventerebbe quindi 1 quindi questo è uguale a cosa concludete? quale sfera ha la densità di carica maggiore? tra le due quella più piccola la sfera piccola ha meno carica complessivamente ma la densità di carica è maggiore la densità di carica è maggiore quindi questo schema qua è una specie di modello di una situazione reale che potrebbe essere questa immaginate un pezzo di rame che abbia una forma così tipo una sfera con un naso quando voi mettete una quantità di carica qua mettete una certa quantità di carica su questa cosa ecco la vostra depositata una certa quantità come si distribuisce? non si distribuisce in maniera uniforme perchè non è una sfera dove sarà? dove sarà? dove sarà? in quale zona superficie la densità di carica sarà maggiore? la densità da carica maggiore è qua sulla sfera piccola quindi la densità di carica maggiore è qui e quindi il campo elettrico dov'è il campo elettrico più intenso? torniamo al nostro modellino dov'è che il campo elettrico è più intenso? localmente cioè in un punto molto vicino alla superficie questo punto qua e in questo punto qua in punti molto vicini alla superficie quale di questi due punti? questo punto o questo punto il campo elettrico è più intenso? è più intenso qui bene perchè? perchè il campo elettrico vicino vicinissimo vicinissimo è uguale al valore locale di sigma diviso ε dove questo è alto? questo è alto quindi qua la sigma è molto più alto di qua è molto più alto nella misura in cui questo raggio è molto più piccolo di questo adesso si intende quella parola molto no? quindi se le due sfere hanno lo stesso raggio allora la densità ricarica è sempre uguale se questa sfera è molto piccola allora la densità ricarica sarà corrispondentemente molto grande e quindi il campo elettrico va molto grande quindi il campo elettrico in questo punto molto vicino alla superficie se volete un punto sulla superficie così togliamo questa parola del vicinissimo a il campo elettrico in questo punto della superficie è molto più grande del campo elettrico qui qui è molto più grande sempre 90 gradi eh? sempre 90 gradi d'accordo? quindi dove si ha più rischio di avere scintille? dove ci sono le punte d'accordo? poi magari spoveriggio faccio qualche commento sulle scintille ma adesso no il campo elettrico è più intenso dove ci sono punte quindi se voi avvicinate la mano è la che ci potrebbe essere la scarica verso la vostra mano si forma la scintilla quindi quando voi avete un pezzo di metallo e state mettendo sopra un sacco di carica state creando un campo elettrico volete che questo pezzo di metallo sia il più liscio possibile perchè se ci sono delle punte il campo elettrico sulla punta diventa molto forte talmente forte che se voi avvicinate non senza toccare semplicemente avvicinate un oggetto alla vostra mano si potrebbe scoccare una scintilla ma questo è un fenomeno complesso che magari dico qualcosa con me che ora so che forse non ho impostato l'orotico ma questo è un pezzo di rame supponete che questo sia un pezzo di rame e qua c'è una caverna e questo è rame mettiamo un valore ssh 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 supponete che qua c'è una carica mettete voi una carica che so mettiamo un valore tipo più 5 micro coulomb ok? Allora questa carica qua all'interno del rame